Nuovo regolamento europeo, irresponsabile al trattamento dei dati personali, articolo 28. Rispetto alla legge attualmente in vigore, la 196, ci sono tre grandi cambiamenti che riguardano il responsabile al trattamento e i comportamenti che l'azienda deve tenere quando affida dei dati all'esterno. Il primo grande cambiamento è questo. Se l'azienda, nella figura del titolare, affida dei trattamenti all'esterno, è obbligata per questi trattamenti a nominare un responsabile al trattamento. Come faccio a nominarlo? Lo posso nominare con un atto di nomina, ma posso anche nominarlo con apposite clausole contrattuali all'interno di un contratto, ad esempio, ma devo nominarlo per iscritto. Ci deve essere questa verifica. Il secondo grande cambiamento che troviamo è l'obbligatorietà da parte del titolare di verificare che il nostro responsabile sia compliance GDPR. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'azienda, nella figura titolare, verificherà che il suo responsabile si comporti in maniera adeguata, abbia adeguate contro misure, abbia comportamenti corretti nell'ambito dei trattamenti del GDPR. La terza grande cosa è che deve essere mantenuta sotto costante controllo quella che si chiama la catena dei responsabili, ovvero io titolare del trattamento affido dei dati all'esterno, ad esempio lo studio paghe perché mi faccio le paghe dei miei dipendenti, lo studio paghe a sua volta affida una parte dei trattamenti a un altro responsabile che potrebbe essere chi gli ha fatto il software, chi gli gestisce il cloud con le informazioni. Questa catena deve essere chiara dall'inizio, certificata tutta la catena, nei comportamenti e nella compliance GDPR. Ecco quindi riepilogando che le tre cose importanti sono, dobbiamo sempre comunque nominare i responsabili del trattamento, dobbiamo verificarne i comportamenti e gli strumenti che siano adeguati, dobbiamo mantenere sotto controllo la catena dei responsabili.